Stavo editando uno short che lo vedrete, che probabilmente lo avrete visto sul canale E praticamente è uscito nel canale di Music Bento Insane con Nanni Baldini Lo stesso doppiatore che ha doppiato Giochino Rémy, Rango, Stewie E adesso Nanni Baldini canterà in questo video che faremo la reaction Ovvero Insane E andiamo a fare la reaction subito Non ero neanche pronto per sta roba Giuro che non ero neanche pronto Vai Ok Ok, ok Ok, ok L'ultimo arrivato all'inferno, l'omicida delle varie opportunità Palastro Miei cari ben trovati Dove sono non lo so O come ci sono arrivato Ma so che presto lo capirò Di certo io non sono un santo Non è il ruolo a te È lui in persona Ma voglio un pasto davvero re Quando sulla via ti troverò Del tuo dolore io mi sazierò Attenzione Oh Oh Ma Che creepy sta versione Madonna Oh no Oddio Quella parte Oddio Ma è bellissima Chissà se puoi rispondermi Chissà se puoi rispondermi Sarei curioso di sapere Se da morto sanguini Oddio Hey Quando sulla via ti troverò Del tuo dolore io mi sazierò Ammetto che mi piacerà Che dici sono pazzo oppure no Sono morto ormai già da un bel po' Ma non credo che riposerò Attenzione eh Madonna Sta roba Questa disegno è creepissimo Comunque Fa veramente paura Alas non guardarmi Per piacere Oddio Stavo dolore io mi sazierò Ammetto che mi piacerà Che dici sono pazzo Oppure no Come ho fatto a rassapendola Sta cosa Non dormo più la notte